Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Resta in carcere il marocchino di 43 anni accusato di stupro e sequestro di persona Cinquantenne pesarese rischia di annegare lungo la baia Flaminia salvata dai bagnanti Siccità assassina al canale Albani, muoiono anatre e cigni bianchi Sanità sul Santa Croce, il centrodestra e i Cinque Stelle puntano il dito sull'amministrazione Seri I loculi del cimitero di Rosciano sono a norma, ad affermarlo è il progettista del comune Buonasera, benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia La cronaca in apertura, ieri il marocchino di 43 anni accusato di stupro e sequestro di persona Si è presentato davanti al giudice per l'interagatorio di garanzia Il nordafricano 43enne accusato di tentata violenza sessuale e sequestro di persona Di una 14enne di origini straniere prelevata nei pressi della stazione ferroviaria E poi portata in un casolare abbandonato alle 4.30 di lunedì mattina Resterà in carcere a Villa Fastigi Il giudice Giacomo Gasparini ieri ha convalidato l'arresto del 43enne E disposto la custodia cautelare in carcere Davanti al giudice il marocchino ha negato ogni accusa e raccontato la sua versione dei fatti Secondo la quale la minorenne l'avrebbe seguito volontariamente a piedi fino al casolare abbandonato Diversa la versione della ragazza invece che nel frattempo è stata dimessa dall'ospedale Con alcuni giorni di prognosi per le ferite riportate Ferite che stando al racconto della stessa ragazza sarebbero state le conseguenze della sua roccambolesca fuga Da una finestra del casolare dove l'africano l'aveva portata e abitava illegalmente Per poi una volta essere arrivata sulla Flaminia chiedere soccorso ai passanti che hanno attivato il 113 Un episodio sicuramente grave per la città di Fano che però si è connotato anche per alcuni aspetti sicuramente positivi In primis il fatto che un cittadino fanese subito si è attivato, si è fermato, ha soccorso la ragazza Che era in preda al panico, era sotto sciocche e avvisato, ha allertato subito il 113 Quindi ci ha indirizzato immediatamente sulla pista buona per poterlo arrestare, individuare e arrestare nell'immediatezza Anche a differenza di altri automobilisti che non si sono fermati alla sollecitazione della ragazza Seppur in estrema difficoltà sulla strada che vagava e seppur ferita in condizioni molto sfavorevoli C'è anche da dire che il sospetto, questo cittadino marocchino, 43 anni, già era conosciuto Avevamo noi avuto a che fare con lui qualche anno fa proprio in occasione di arresti per droga Che abbiamo eseguito qui a Fano E' ritornato a Fano dopo una detenzione che ha avuto nel carcere di Campobasso Un cittadino è stato già espulso dal territorio nazionale Però è rientrato nel nostro territorio qui a Fano Anche se da poco tempo E quindi soggetto sicuramente pericoloso Soprattutto per quanto riguarda lo spaccio di sostanze stupefacenti Quindi un'operazione sicuramente molto rapida, veloce Anche perché questo marocchino si sarebbe sicuramente allontanato Anche considerato il suo stato di irregolarità sul nostro territorio Incidente stradale questa mattina a Carriera di Fano Poco dopo le 7 all'incrocio tra la via Flaminia e la strada provinciale 80 all'altezza del bar Jolly Uno scooter condotto da un giovane finito a terra per una perda di controllo del mezzo Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Fano Che sono intervenuti sul posto La manovra della Panda condotta da una donna sulla settantina Che stava uscendo in retromaccia dal cancello della sua abitazione Proprio in corrispondenza dell'incrocio Avrebbe causato lo sbandamento dello scooter Il ragazzo che ha riportato lievi ferite È stato a soccorso dai sanitari del 118 Che lo hanno condotto al pronto soccorso del Santa Croce Per gli accertamenti sul posto Per regolare la viabilità Anche una pattuglia di vigi urbani di Fano E il traffico data l'ora di punta Ha subito notevoli rallentamenti Ed ora ritorniamo a occuparci del cimitero di Rosciano Questa volta sentiamo i pareri dell'amministrazione E del tecnico che ha progettato proprio i loculi incriminati Sentiamo Appuntamento questa mattina al cimitero di Rosciano Con assessore e tecnici del comune Il motivo dell'incontro Chiarire gli aspetti legati alle misure dei loculi di nuova costruzione Il cimitero di Rosciano Ci dice il geometra del comune Ha subito un'importante opera di ristrutturazione e miglioria Grazie ad una progettazione attenta e migliorativa rispetto al passato Qui nessuno fa le cose a casaccio Ci tiene a puntualizzare aspetti progettuali Che hanno nella logica del miglior servizio all'utenza possibile Il senso di quanto è stato poi realizzato Il tutto nel rispetto assoluto delle norme vigenti È preciso e circostanziato il geometra Costinelli Dell'ufficio tecnico del comune di Fano Per chiarire gli aspetti che sono stati alla base Delle dichiarazioni dei giorni scorsi Per lo spiacevole episodio del feretro Che non entrava nell'oculo Allora noi abbiamo fatto con la prefabbricazione I loculi da 75 di grandezza e 70 di altezza E su 170 loculi 60 fuori misura Perché noi sappiamo che ci sono delle casse più ampie, più grandi E le abbiamo fatti da 85 per 70 di altezza Il punto è questo Io all'inizio del progetto avevo fatto una lastra a filo del marmo Di modo che non c'erano le spallette laterali Poi con il proseguire dei lavori Sapevo già che avrebbe creato un disagio alle persone Che quando mettono i fiori Perché le lastre a filo non dà la possibilità di mettere una pianeta Allora mi sono detto Forse è meglio 5 minuti di disagio in fase di montaggio Di quanto si mette il feretro Piuttosto che 30 anni di disagio senza la pianeta per mettere i fiori Allora ho fatto questa scelta Il problema è che adesso Si tira giù la spalletta laterale in quelli più stretti Si mette la cassa e si rimonta Non è una cosa... Quindi è stato un compromesso per andare in conto alle esigenze delle persone Perché da noi c'è l'abitudine di fare questa piccola riquadratura di marmo Contrannamente altri cimiteri che si fa la lastra a filo Però hanno il problema di posare il vaso dei fiori Ed ora cambiamo argomento Andiamo a Pesaro dove una signora di 50 anni Circa ieri pomeriggio ha perso conoscenza in acqua Ed è stata prontamente condotta a riva dai presenti in spiaggia Tra cui un medico e ha ricevuto la primissima assistenza Assistenza continuata poi dal servizio 118 Alla presenza dei militari della Guardia Costiera Per il successivo trasporto in ospedale Per il dovuto monitoraggio delle sue condizioni di salute E la siccità al canale Albani non dà tregua agli animali Purtroppo sono morti nella notte appena passata Due cigni bianchi e alcuni esemplari di papere La siccità del canale Albani non fa sconti a nessuno Purtroppo le contromisure prese dall'ufficio ambiente del comune Non sono state sufficienti Si sono scontrate con l'istinto abitudinario degli animali Nel giro di poche ore una strage di abitanti pennuti Che vi dimorano ed arrancano tra le pozze maleduranti Di acqua putrida ristagnante da settimane Che ormai è divenuta veleno puro per loro Sembrerebbe proprio che queste acque ormai ridotte A liquami fognari Siano la causa della morte Di due esemplari di bianchissimi cigni E di almeno quattro papere E di alcuni piccoli Che abitudinariamente dimoravano sotto il Ponte Rosso E dove ahimè hanno trovato la morte Ad accorgersi purtroppo dell'accaduto questa mattina Gli abitanti della zona Che vigilano ogni giorno sugli esemplari rimasti Alcuni dei quali anche in cova di quattro uova E che ormai incuranti dei divieti Cercano in ogni modo di portare conforto e cibo Alle povere bestie rimaste Unica traccia vivente di questo deserto in piena città Strappandoli ad una brutta sorte Questa notte sono morti due cegne Qui i due più grossi Cinque e sei papere lungo il percorso Sono morte Ne abbiamo messo in salvo Cinque e sei adesso E circa una cinquantina Le abbiamo fatte confluire Verso Viale Kennedy Adesso è rimasto A una papera molto grossa Che ha fatto quattro uova Sul gretto del canale E adesso cerchiamo di convincere anche questo Il personale di Enel Green Power Opera come può Per spostare verso zone meno pericolose Gli animali Prendendoli di persona Come un grosso esemplare Che ormai allo stremo Non riusciva più a muoversi O come una quarantina di esemplari Che ancora sono stanziali Nel tratto di via Kennedy del canale Ma per quanto tempo ancora Potranno resistere Speriamo il più a lungo possibile E per qualche animale Che non ce la fa Invece una storia A lieto fine Per un cavallo Che era rimasto Imprigionato Nel Insomma Negli anfratti Di una montagna Da Cagli La nostra corrispondente Veronique Angeletti Ci racconta tutta la storia Per diversi giorni È rimasta intrappolata Nelle pieghe del Monte Neroni Oggi sta riposando Nella sua stalla Pianello di Cagli Tanta paura per Dunia La cavalina di razza del Catria Prigioniera A 1300 metri d'altitudine La giumenta Allontanandosi dal branco Sicuramente alla ricerca di acqua Si è adentrata In una zona Impervia del Cimaio Che nasconde di rupi Dove l'animale è caduto Finendo in un canalone Una decina di metri più giù Dalle ferite Sembra che si è capovolta E nel tentativo Di frenare la sua caduta Si è purtroppo Lussata La zampa posteriore destra Solo domenica pomeriggio Per caso Un escursionista Si è accorto dell'incidente Sul posto Sono intervenuti Vigili del Fuoco Della caserma di Cagli Che con un veterinario Si sono prima preoccupati Di medicare la cavalina Ma purtroppo Hanno dovuto lasciarla Al freddo Per due notte Consapevoli Del pericolo dei lupi Il forte vento Che soffiava sul Nerone Ha impedito Per 72 ore All'elicottero Dei vigili del Fuoco Di avviare Le operazioni di soccorso Solo ieri mattina Il 12 luglio Alle 6 della mattina È stato possibile Dal team degli soccorsi A distanza All'aeroporto di Bologna A decolare L'animale imbragato È stato trasportato In un prato in quota Vicino alla strada Dove con un van È stato riportato A valle Una storia Che finisce bene Anche per il gran merito Della solidarietà Che è scattata Intorno all'allevatore Proprietario Della bestia Dove diversi amanti Degli animali Hanno portato Dall'alba All'imbroniere Avena E d'acqua Bene Speriamo che Nelle prossime ore Goda di piena salute Questo giumenta E andiamo a Ponte Sasso Perché i cittadini Vogliono fortemente Una struttura Una struttura D'accoglienza Per anziani All'avanguardia E si sono Autofinanziati Per produrre Un'idea di progetto Sentiamo Ponte Sasso Tutta vuole Fortissimamente Vuole Una struttura Moderna E all'avanguardia Al servizio Dell'intera comunità Lo vuole Così tanto Da autofinanziare Uno studio Di architettura Per rappresentare Un'idea progettuale Di un centro Polifunzionale Che possa ospitare Persone anziane Un centro Riabilitativo E strutture Aperte alla comunità Come un centro Benessere O di impianti sportivi Il tutto dovrebbe Sorgere Dalle ceneri Di quella ex colonia Che fu al centro Delle cronache invernali Per essere stata Individuata Dal comune di Fano Cosa che poi Non si è verificata Come la struttura D'accoglienza Di una trentina Di migranti Minori Non accompagnati Cosa che trovò Una forte contrarietà Della comunità Non per i migranti In sé Ma per l'inadeguatezza Della struttura E del contesto Che si sarebbe potuto Sviluppare In futuro Eventualmente Noi crediamo Che questa idea Di progetto Perché ovviamente Non è un progetto Finale Un'idea Possa valorizzare Non solo Ponte Sasso Ma un intero territorio Che va dal fiume Metauro Al fiume Cesano Ora dall'idea Si è passati Al progetto di Massima Anzi Due progetti Affini Ma stilisticamente Diversi Di quello che I 5700 metri quadri Di superficie Potrebbero diventare Uno più stilisticamente Spinto Futuristico E modernissimo L'altro più regolare Nelle forme Ma sempre Nel segno Della modernità Abbiamo Cercato di Mantenere La caratteristica Esistente Che è quella Del verde Principalmente E della parte sportiva Quindi Queste sono Idee di fondo Che ci hanno condotto In queste idee Progetto Non progetti esecutivi Né definitivi Le comunità E le due associazioni Di cittadini Da poco costituite Hanno avuto Una parte Fortemente attiva In questa fase Progettuale Avere Delle strutture sportive Degli impianti sportivi Da poter utilizzare Fuori dalla stagione Balneare Piena Quindi dall'alta stagione Per ospitare Penso Dei gruppi O delle manifestazioni sportive Anche per gli alberi Che sarebbe sicuramente Una cosa Estremamente importante E la cosa È bellissima Noi che L'abbiamo vissuta Da bambini Vedercela Demolire lì Buttata La rovina Per noi è un sogno Vedere rinascere Ora si attende Che privati O altri soggetti Interessati Si facciano avanti Per dare sviluppo Al progetto Che comunque Ha costi di realizzazione Importanti Nell'ordine Di alcuni milioni Di euro Ed ora Vi parliamo Della vicenda La sciagura Terribile Che ha visto Purtroppo Coinvolti I coniugi Fratticelli Domani In giornata Verranno effettuate Le autopsie A distanza di poche ore L'una dall'altra Sui corpi Dei due coniugi Disposti dal magistrato Che ha in carico Il fascicolo Dell'indagine Poi si dovrà Attendere Il nulla osta Della procura Per procedere Con i funerali Che dovrebbero Effettuarsi Presumibilmente Nella giornata Di lunedì Della prossima Settimana La pagina Della politica Si parla Di sanità Sanità Bollente Non solo Per le alte Temperature E climatiche Ma perché Il centrodestra E anche I 5 stelle Puntano Il dito Sull'amministrazione Seri Sentiamo Prima Che cosa Hanno presentato Questa mattina In conferenza stampa Il centrodestra E con Le loro proposte Vediamo Allora La sanità È un tema Caldo Non solo Per le temperature Ma anche Per le argomentazioni Noi avevamo denunciato Ad agosto 2015 Un accordo Nelle segrete stanze Tra Massimo Seri Che è il sindaco Attuale Il sindaco Di Pesaro Ricci Il consigliere Vicepresidente Della regione Minardi E ovviamente Il presidente Della regione Che Tutto assieme Hanno deciso Di chiudere Fano E fare l'ospedale La muraglia In realtà Terranno anche San Salvatore Noi diciamo Basta Già da ieri Da ieri l'altro Quando abbiamo fatto Il consiglio comunale Abbiamo detto Basta A queste manfrine Che stanno facendo Sulla sanità Perché ci stanno mentendo Stanno mentendo Tutti i cittadini Hanno già deciso E si vogliono salvare La faccia Ecco Mentre noi Discutivamo De sanità Il vicepresidente Della regione Era inaugurare Una festa Questo è il senso Che dà il PD Alla importanza Della sanità Nel nostro territorio Ecco Noi a questo Diciamo basta E ora che Iniziamo anzi Ad indicare I responsabili Della futura chiusura Dell'ospedale Di Fano Santa Croce Perché ci sono Dei responsabili Che sono L'attuale amministrazione Il vicepresidente Della regione Ovviamente Agli ordini Del sindaco Di Pesaro Il vostro è un no deciso Il nostro è diventato Un no deciso Perché avevamo già Presentato una mozione Approvata All'unanimità Dal consiglio comunale Di Fano Che l'impegno Che ci eravamo presi Quindi tutti i consiglieri Comunali È rimasto semplicemente Su un foglio di carta Quindi abbiamo provato Anche questa volta A portare L'attenzione Sulla sanità E a portare Un documento condiviso Cosa che purtroppo Non è avvenuta Neanche adesso Quindi quello che vorremmo È che i responsabili Perché ci sono comunque Dei responsabili Considerando che la regione Ha già deliberato Su muraglia Ci dicono Quella che è la verità La dicono noi La dicono a tutti i cittadini Sia di Fano Che delle intervallate Limitrofe L'atteggiamento del PD Non vi comincia affatto Un atteggiamento Sbagliatissimo Dal fatto che Non sono stati in grado Di tenere la maggioranza Infatti il consigliere Minardi Ha preferito andare A fare l'inaugurazione Piuttosto che Sare di vedere in consiglio E per l'ennesima volta Siamo stati noi A tenere la maggioranza In più ha presentato Un emendamento Per richiedendo 90 posti Per l'RSA Obbligandoci A dire di no Quindi Quale sarà il vostro Atteggiamento D'ora in avanti Noi non presteremo più La spalla A questa maggioranza Per il tema della sanità Fino a quando Non ci presenteranno Un progetto serio Su quello che vogliono fare Della nostra sanità Del nostro territorio Perché ad oggi Stanno solo E solamente Smantellando L'ospedale di Fano A piccole dosi Per portare a Pesa E come vi dicevo Anche i 5 Stelle Stanno prendendo atto Prendono atto Della deriva Presa dall'amministrazione Seri Allora Consiglio comunale Sulla sanità Un bilancio Però per voi Non positivo No Direi altamente negativo Perché sono state bocciate Tutte e due le proposte Che abbiamo presentato In consiglio comunale Con la prima Chiedevamo Che la giunta Il sindaco Si impegnassero Per portare Un primo livello A Santa Croce Quindi tutta una serie Di servizi Che abbiamo purtroppo Persi nel tempo Quindi riacquisire Tutti i servizi Che sono stati Tagliati O che provvedibilmente Saranno tagliati E poi la seconda mozione Invece Era per andare Dire un netto no Al tentativo di privatizzazione Che sta portando avanti La regione Nel nostro territorio Sostituendo di fatto I posti letto Pubblici Con posti letto privati In effetti Si continua a dire Che la sanità Privata Convenzionata Costa al cittadino Poco o niente Ed è gratis Spesso si usa Questo termine Non è così Perché i più regenti Studi Dicono che ci costa Un 30% in più Rispetto ai servizi Pubblici È stata invece Approvata L'ordine del giorno Del sindaco Che secondo noi Era assolutamente A ribasso Perché propone Pochissimi servizi Per l'ospedale Santa Croce Tant'è che sarà ridotto A poco più Che un cronicario E un centro diagnostico E poi chiede Una strada per Pesaro Ecco Secondo noi Il sindaco Si è rassegnato E questo Non porterà sicuramente Benefici Alla città di Fano Perché per ottenere qualcosa A volte bisogna combattere Anche con il rischio di perdere La vostra è una presa Adatto In sostanza È una presa adatto Sì Fino adesso Sia da quando sono stata eletta Io nel 2014 Che precedentemente Quando ci era da Romiccioli Ci siamo battuti molto Per la difesa Dei servizi del Santa Croce E dobbiamo rassegnarci Al fatto che Probabilmente Non ci siamo riusciti C'è un'altra cosa Che vi preoccupa adesso Degli spostamenti logistici Che insomma Non vi piaccia Certo Perché il sindaco Gambini Di Urbino Più volte ha chiesto Che la sede dell'aria vasta Venga spostata Ad Urbino È stato pubblicato Un annuncio Per la localizzazione Di una struttura Adeguata Proprio per questa Evenienza Ad Urbino E quindi Noi siamo Seriamente preoccupati Perché Oltre agli uffici amministrativi Il nostro dubbio È che nel tempo Verranno spostati anche I servizi ambulatoriali Ricordiamo che Per i cittadini Sono servizi molto importanti C'è quello per le vaccinazioni C'è quello per il PAP test Quindi Abbiamo protocollato Proprio oggi Un'interrogazione Per chiedere conto al sindaco Della sua posizione a riguardo E soprattutto Se c'è da temere Che vengano spostati Anche questi servizi A Urbino Bene Ed ora apriamo la pagina Degli eventi Perché domani Nel borgo di Saltara Del comune di Coglia Il Metauro Si terrà la diciassettesima edizione Di Saltarua Il borgo in festa Con l'apertura Alle ore 19 Degli stand gastronomici E dei mercatini All'estati Dalla Proloco Con menù tipici I concerti Poi inizieranno A partire dalle ore 21 E saranno Fruibili Nel centro storico L'ingresso Naturalmente La manifestazione Come sempre È gratuito Ma domani C'è un'altra manifestazione Che ci riguarda Più da vicino Che ha una tradizione Ben consolidata Si parla di Barzellette Naturalmente Alla BCC Arena Arrivano i barzellettieri Qui In mia compagnia Questa sera Nel telegiornale C'ho uno Che di barzellette Di vecchia data Se ne intende Giorgio Falcioni Allora Che edizione sarà Quest'anno Di Acrepapelle Sì Noi siamo arrivati All'ottava edizione Quest'anno Abbiamo nove concorrenti Che provengono Un attimino Un po' Da tutto Anche dall'entroterra Abbiamo concorrenti Che vengono Da Senigallia Da Fossombrune Da Da Calcinelli Da Ripalta Ce ne sono Tre quattro Di Di Fanno Insomma Cerchiamo Ogni anno Di prendere Nuovi volti Perché io mi sono messo Da una parte Dopo averne raccontate Di ogni Insomma Adesso guardi Un po' Curi L'aspetto C'è Curo più L'aspetto Organizzativo Naturalmente ci saranno Sempre quei mattacchioni Del San Costanzo Posso fare I loro numeri Che divertiranno Con le loro gag Con le loro battute Quindi si inframezzeranno Ai barzellettieri Bene Allora c'è anche una bella giuria Quest'anno avete messo insieme Una bella giuria Abbiamo la giuria Abbiamo l'assessore Caterina del Bianco Assessore allo sport Il dottor Vannucci Massimo Della farmacia Vannucci Antonio Nipaolo Consigliere BCC Brunori Barbara Consigliere comunale E Severi Arido Titolare Del Cono Del Flaminio Sant'Orso Un bel corpo giudicante Ma tu che sei uno Che di barzelletta Ne hai raccontate tante Se ne intende Il segreto per raccontare Una barzelletta Qual è? La barzelletta Deve essere breve Deve essere breve Perché poi Quando le tira lunga C'è qualcuno Che tira lunga Due o tre minuti Un po' stanco Per perdere un po' Invece Deve essere istantanea Deve colpire Come una frustata Grazie Giorgio Allora noi Ci vediamo Vi aspettiamo tutti Domani sera Alla Rino BCC Bene Bene E allora Con questo Naturalmente è tutto Tutti quanti in attesa Domani sera Per questa serata L'insegna del buon umore E delle risate Tra poco in studio Con il direttore Marco Ferri Ci sarà un ospite Simone Venturini Scrittore e biblista Per parlare Del suo ultimo libro Dal titolo Il potere segreto Della Bibbia E poi dopo l'approfondimento Ci sarà come sempre Una puntata di In cucina con lo chef E poi a seguire Uno speciale Sulla festa Della Cresciamatta Proprio a Tre Ponti Bene Questo era tutto Grazie per essere stati In nostra compagnia Io mi fermo qui Per questa edizione Di Occhio alla Notizia Che naturalmente Torna domani sera Puntualmente Alle 20 e 30 Buona serata A tutti voi Grazie a tutti Grazie a tutti Autore dei sorrisi